Rifiutiamo la mondanità che ci porta alla doppia vita e distrugge la nostra identità cristiana. È l'invito rivolto da Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, preseduta a Casa Santa Marta, commentando la prima lettura tratta dal secondo libro dei Maccabei. Protagonista è il vecchio Eleazzaro, che non accetta di mangiare carne facendo finta che sia di maiale, come gli chiedevano anche i suoi amici mondani, preoccupati di salvargli la vita. Lui, ha osservato Francesco, mantiene la sua dignità con quella nobiltà che aveva da una vita coerente, va al martirio, dà testimonianza. Il tarlo della mondanità ha rovinato la sua identità cristiana. È incapace di coerenza. Io sono tanto cattolico, padre, io vado a messa tutte le domeniche, ma tanto cattolico. E poi vai a lavorare, a fare il tuo mestiere, ma se tu mi compri questo, facciamo questa tangente e tu prendi la tangente. Questa non è coerenza di vita, questa è mondanità. Per dare un esempio, la mondanità ti porta alla doppia vita. Quella che appare è quella che vive e ti allontana di Dio e distrugge la tua identità cristiana. Lo spirito cristiano, l'identità cristiana mai è egoista. Sempre cerca di curare con la propria coerenza, curare, evitare lo scandalo, curare gli altri, dare un buon esempio. Ma non è facile, padre, vivere coerentemente in questo mondo dove le tentazioni sono tante. Il trucco della doppia vita è tutti i giorni. non è facile. Per noi non solo non è facile, è impossibile. Soltanto Lui è capace di farlo.